E siamo qua con la seconda puntata del Dufer e Boldrin che fanno acquisti in giro per il mondo, perché dopo qualche settimana fa in cui abbiamo chiacchierato di Cina con un esperto di Cina, oggi abbiamo portato qui, beh, insomma, una conoscenza del Dufer Universe, cioè Alessandro De Concini, che ormai, insomma, conoscete molto bene, però, visto che questa puntata finirà anche, ciao Ale, visto che questa puntata finirà anche nel canale di Michele Boldrin, Io direi che potremmo anche concedere qualche secondo ad Alessandro per presentarsi e raccontare cosa fa, cosa vuoi Michele, lo facciamo, lo facciamo parlare un po', sei d'accordo? Assolutamente, 10 secondi, sono un insegnante, un divulgatore, un imprenditore digitale, uno youtuber, quello che faccio è, diciamo, insegnare alle persone in maniera scientifica e finalmente, insomma, con una divulgazione scientifica seria, come si studia, come si impara, come si mantengono le informazioni, quindi ho cominciato dal dare lezioni agli studenti e poi sono finito sul web a parlare di cognizione, di apprendimento, di memoria, di produttività e poi sono stato acquistato dal Dufer Universe e adesso ho un contratto multimilionario pagato con le sponsorizzazioni e con gli iscritti a Twitch, quindi questo è il mio... Non so dove sono finiti i milioni, però bene, 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 sono molto contento di questo acquisto e visto che Alessandro Deconcini si è, diciamo così, ha dato lustro alla squadra durante le altre puntate, allora qua lo facciamo entrare nel Dream Team del Duferable Dream, quindi ciao. Michele, tu come stai? Tutto bene? Michele, tu come stai? Sono qua. Tutto bene, ti ho fatto una domanda, Michele, non mi rispondi neanche più ormai, cioè nel senso ormai siamo così affiatati che... Come devo dire tesoro, ho ascoltato, tesoro adesso adesso non lasciamoci portare dalle emozioni, ho ascoltato quello che ha detto Alessandro, adesso cercherò anche di capire cosa esattamente fa, ammetto la mia totale ignoranza, anzi ti faccio subito la domanda, cioè cosa vuol dire metodo scientifico per studiare nel senso di cosa? di apprendere nozioni, no 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 no, nel senso bignami, concetti e cose, diciamo così, acquisite, per esempio che so, la teoria delle funzioni di variabile reale. Esatto, fondamentalmente quello che io ho fatto è stato questo, è stato quando ero uno studente in difficoltà, è stato cominciare a cercare qualcuno che mi spiegasse come si faceva a studiare e quello che è successo è che mi sono imbattuto nelle classiche boiate, letture veloci, studia 10 minuti e prendi tutti i 30, quelle cavolate là, dopo essermi reso conto che erano tutte cavolate ho cominciato a seguire i corsi, i libri di psicologia cognitiva e delle scienze cognitive che parlavano di apprendimento e ho cominciato semplicemente a prendere quello che diceva la scienza in merito a come funziona l'apprendimento, quando è più sensato imparare, quanto, in che modo eccetera eccetera e a divulgarlo prima a me stesso per andare bene agli esami e poi a parlarne online, quindi è stata questa più o meno la cosa, quindi io faccio da ponte tra quelli che studiano l'apprendimento e quelli che poi lo applicano giorno per giorno, che sono in gran parte gli studenti fondamentalmente. Io devo dire che quando ho conosciuto il progetto di Alessandro un po' io mi ero avvicinato perché a me interessa molto tutti i discorsi legati a scienze cognitive, tecniche di apprendimento, queste cose qua, ho fatto anche dei corsi in passato su memorizzazioni e via dicendo perché ne avevo bisogno e ho sempre trovato tantissima fuffa, quando ho trovato il canale di Alessandro mi sono detto ah no aspetta qua però c'è un po' di cognizione oltre che di cognitività e quindi piano piano abbiamo cominciato a collaborare è un bellissimo canale, te lo consiglio insomma Michele di guardare quello che faccio. Beh se tutti sanno cosa faccio di professione. Lo youtuber. Manifesto immediatamente una mia salutare perplessità. Certo. Queste sono le robe alla Skinner Pavlo per capirsi. No, assolutamente no, il comportamentismo è da un bel pezzo che ha lasciato. No, 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 certo, certo, sono le cose che vengono comunque da loro, poi il comportamentismo l'abbiamo lasciato alle spalle circa 50 anni, 60 anni fa. Però ecco, allora sono teorie positive o sono teorie normative? Cioè sono teorie che dicono beh chi apprende apprende in questa maniera, succedono queste cose nel cervello, ci sono certi processi, c'è una maniera in cui l'organizzazione neurale si adatta, certe cose vengono registrate altre meno, c'è una gerarchia bla bla bla. O c'è se fai così diventi più cosa? Più intelligente, più... No, assolutamente no. Allora intanto comunque... Impari meglio? No, no, no. Impari meglio. Cosa vuol dire impari meglio? Vuol dire che se io ripasso a caso, mi ricordo le cose per un certo periodo di tempo, se ripasso in un certo altro modo, in un modo corretto, a intervalli di tempo precisi, mi ricordo le cose più a lungo. Oppure invece di leggere e ripetere, mettere alle prove le conoscenze con l'active recall, quindi con un test, funziona meglio per consolidare, per creare rete di conoscenza significative. Cosa di questo tipo... Esatto, toglierò un po' di sospetto. Cioè sono delle cose del tipo, quando qualche cretino vi spiega che con la musica di fondo vi concentrate meglio, mandate affrontare il cretino, perché la musica occupa spazio nei neuroni. Senza alcun dubbio, occupa memoria di lavoro. E io riesco a rilassarmi solo se c'è heavy metal nelle cuffie, quindi ho imparato tutte le teorie. O Daily Cogito, Daily Cogito. Mi dicono che però quando uno studia... Ho sentito spiegare decine di volte e io li guardo. Ma quello non occupa memoria di lavoro, no? Perché non ci sono concetti, no? Aspetta che buttiamo fuori dalla stanza Alessandro De Concini, fermi. No, comunque sono contento, sono stato tagliato fuori a metrismissione. Anc'io non volevo denigrare l'heavy metal. Ho solo l'impressione che l'heavy metal, come dire... Sia un po' distraente, un po' distraente. No, anzi. Meglio le cuffie da cantiere. Allora proviamo a capire un po' cosa fai esattamente. Quali sono le teorie o i miei risultati di Alessandro? No, no, te lo consiglio. Il canale di Alessandro è tanta roba. Cioè nel senso io... Per me ormai è troppo tardi, ho 65 anni quel po' che potevo apprendere. Però, 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 però se... Cioè nel senso può essere un ottimo spunto... Non posso più apprendere niente, anche se cerco di ascoltarlo, non apprende. Da docente può essere interessante come consiglio eventualmente ad alcuni studenti, perché veramente quello che fa Alessandro è qualcosa di molto importante, perché poi, ripeto, come dicevo, è un campo in cui c'è tantissima fuffa. Però dall'altra parte io direi, smettiamo di farci i pompini a vicenda e entriamo immediatamente nel discorso di oggi, perché oggi vorrei ragionare con voi su un discorso che ho sentito a fare qualche giorno fa. Alessandro Barbero è stato intervistato da Oscar Giannino e parlando hanno discusso anche di scuola. A un certo punto è venuto fuori l'argomento delle competenze. Allora, cos'è che è venuto fuori? È venuto fuori il discorso che, come sempre, insomma, Barbero in qualche modo ha detto che a scuola c'è un problema, un problema legato all'alternanza scuola-lavoro, che vede un po' troppo gli studenti come ingranaggi da applicare, via dicendo. È venuto fuori anche, ovviamente, la parola neoliberismo, ma quella la lasciamo perdere perché altrimenti l'anatema si scatena nel mondo. Oscar Giannino ha detto sì, però piano. Io richiedo perché mi venga spiegato in cosa il neoliberismo ha modificato il progetto a scuola. Sì, sì, va bene, poi magari ci arriviamo, poi magari ci arriviamo. Però il punto veramente fondamentale è che poi, con grande mestiere, devo dire, bravissimo, Oscar Giannino è riuscito a far dire a Barbero, sì, sì, va bene tutto, però il problema della scuola è che non dà più competenze. Quindi è inutile star qua lamentarsi del fatto che, ah, gli studenti vengono visti come ingranaggi per un mondo lavorativo, se poi la scuola non riesce a dare competenze. Quindi io la prima cosa che vorrei porre come questione è questa. qual è oggi, secondo voi, secondo noi, insomma, la relazione fra apprendimento universitario e liceale soprattutto e poi le competenze nel mondo, cioè nel senso un mondo che è andato avanti, una scuola che invece è rimasta molto indietro, come secondo voi oggi si può intanto intendere questa relazione? Se c'è una relazione, prima di tutto. In secondo luogo, se ci sono dei margini di miglioramento, secondo voi. Io farei iniziare Michele, Michele. Ma guarda, dunque, sono il più sbagliato, eh. Perché allora qui c'è un po' di... Io l'unica roba su cui posso, sono sicuro che Alessandro ha anche la terminologia tecnica per questo. Io dico queste cose non mi occupo, quindi non ho la terminologia tecnica, ma quella concettuale. Esiste una dimensione funzionale dell'apprendimento e metodologica della quale io so poco. So quello che ho imparato con l'esperienza, con la riflessione su me stesso e quello che so di neuroscience, ma siccome mi occupo di neuroscience per altri fini, cioè teorie delle decisioni e cose di questo tipo, le cose che hanno a che fare con la fissazione di concetti, la strutturazione, non le so. La mia posizione sulla scuola italiana è invece a che fare con i contenuti. Il problema vero, dal mio... Il problema che ho visto io, non dico che sia l'unico, anzi, probabilmente si legano, e forse oggi imparo qualcosa su come si legano. Il mio problema rispetto alla scuola italiana è che i contenuti che vengono impartiti ai ragazzi fondamentalmente dalla fine dell'elementare fino al liceo e poi di conseguenza all'università sono completamente inadeguati. Ovviamente c'è anche una metodologia che li sottende che è inadeguata, ma di nuovo ha poco a che fare con le tecniche di apprendimento, se non cose del tipo che poi dicono vabbè boomer, cioè fanno un cazzo, stanno poche ore, si grattano le balle, secondo me è vero, pensano tutti che si possa studiare senza studiare, cioè apprendere senza studiare, senza leggere, sta diventando sempre più diffuso. Su questo sono dell'opinione che i meccanismi visuali e sonori siano nocivi o perlomeno siano... Magari Alessandro mi dimostrerà che l'evidenza sperimentale dice l'opposto. La mia piccola evidenza, non sperimentale, però 40 anni di insegnamento ce l'ho, direi, ormai faccio 30.000 studenti buoni, osservati. Vi sono ambiti del sapere, fra cui quello filosofico, tra l'altro quello logico, quello matematico di sicuro, che non sono favoriti, o cui il pre-apprendimento è meno stabile, con i metodi questi, di immagini, grafici, suoni, fumetti, e robe di questo tipo. Mentre, niente, e questo so io. Adesso non ho voglia di portarvi a discutere su perché io credo che, per esempio, non sia il caso di avere le tre medie inferiori e superiori, bisognerebbe avere cinque anni di scuola dell'obbligo, uniformi, bisognerebbe evitare di bocciare, ma semplicemente accettare che ci siano itinerari alti, bassi, medi, e così via, che permettono alla gente di accettare quelle loro capacità cognitive, propensioni. Non credo sia questo, no? No, no, poi magari andiamo anche in quella direzione. Su questo, se volete, c'era una domanda prima, di Blaze, che chiede al professore, sì, al professore, che è tenuto a poldrino, ma anche a tutti quanti, del fatto che degli invalsi sembra che solo il classico e scientifico siano riusciti a dare requisiti minimi, di istruzione. Secondo voi è vero intanto questa cosa qui? E poi come si potrebbe colmare nel caso fosse vera? Mi espongo subito io, dopo Alessandro Vagio, la gente in Italia deve imparare, ed è una discussione certa, che esiste self-selection. È una puttanata, è una banalità. Allora, al classico esistono differenti capacità cognitive, lo dico con un po' di enfasi, perché mi sono un po' stancato. Rotto le balle, si dice, rotto le balle. Solo in Italia c'è questa idea cretina, che secondo cui il livello di capacità cognitive, di stile, è uniforme fra i vari istituti. Poi, a parte che siamo uno dei pochi paesi dove è rimasta questa stratificazione degli istituti, in Spagna c'è la scuola media e che quindi, siccome le capacità cognitive di quelli che vanno al classico sono quali di quelli che vanno al professionale, l'ha fatto che quelli del classico alla fine vengono fuori obiettivamente, più preparati, in media, ricordiamoci, c'è la distribuzione, dipende dal fatto che il programma del classico è quello buono e il greco ti aiuta a pensare. È una stronzata. Le scuole italiane sono purtroppo, ed è una delle ragioni per cui andrebbe eliminata questa stratificazione classico, scientifico, sperimentale, linguistico, tecnico questo, tecnico quell'altro, fare un'unica scuola media superiore, sono stratificate socialmente per performance e quindi nei licei vanno i ragazzi e le ragazze più capaci, più dotati, più motivati, con le famiglie che spingono di più, più ambitori, quello che volete voi, lui avrà una parola giusta, politica di corretta. È il classico carro davanti ai buoi, Cioè nel senso è proprio un rovesciamento. Ma è una sciocchezza, cioè si confonde, si chiama self selection, statisticamente. Cioè i gruppi si autoselezionano. Quindi certo, se la scuola professionale goda della pessima fama che gode, ci vanno ragazzi e ragazze poco motivati, con poco voglia di fare, anche forse con capacità cognitiva inferiore alla media, perché no? Non c'è mica da vergognarsi. Tuale, che ne dici? Intanto mi viene in mente una cosa che diceva Umberto Eco su questa faccenda qui, che gli chiedevano se fosse vero, secondo lui, che il liceo classico era la scuola che preparavano le classi dirigenti del paese e lui rispondeva, non è che è che i figli delle classi dirigenti vanno al liceo classico? Cioè è questo il punto. Il punto è che sono d'accordo al cento per cento con Michele, cioè si confonde qui la causa con l'effetto. non è la scuola classica che prepara meglio della scientifica o che prepara meglio è che abbiamo costruito una stratificazione di merito che io trovo francamente brutale e sbagliata. Se c'è una cosa su cui da sempre io mi scaglio sono le valutazioni di terza media. Cioè quando alla fine della terza media ti dicono che non sei abbastanza intelligente per studiare in una certa scuola. Questa cosa qui è tremenda per quanto mi riguarda, però l'effetto è che noi non abbiamo scuole diversificate tanto per contenuti. sì, anche per quello ma soprattutto le abbiamo trasformate in scuole di livelli differenti e questo a mio avviso è un grave errore. Io sono contrarissimo a questa cosa qua quindi sono d'accordo con Michele quando dice che il problema non è se il liceo classico è meglio o peggio è chi ci va al liceo classico perché quando mi dicono sì ma il latino forma la mente io sono anche d'accordo ma non è che l'informatica lo faccia di meno. Cioè non è il punto è che ci va a studiare latino chi ha avuto dei voti più alti alle medie e dunque gli hanno detto vai a studiare il latino ma non è che se io imparco a rigore di logica io sono un linguista di formazione allora a rigore di logica se devi studiare una lingua studiare il latino non è meglio che studiare il cinese cioè è sempre una lingua è la stessa cosa per cui cognitivamente succedono le stesse identiche cose se tu studi il latino se tu studi lo spagnolo non cambia niente allora è che in una certa scuola abbiamo deciso che le trasformiamo io ho insegnato in diverse scuole ho fatto corsi e mi è capitato di vedere scuole che vengono trattate come di fatto un deposito di persone che non hanno voglia di studiare e questo è pesantemente sbagliato anche per ottenere il risultato cioè il risultato della scuola dovrebbe essere valorizzare l'individuo il più possibile che non vuol dire farli arrivare tutti allo stesso livello perché non è così che funziona la mente umana ma vuol dire tirare fuori il meglio da chiunque ma per tirare fuori il meglio da chiunque bisogna non ghettizzare le persone e dire i bravi a destra i non bravi a sinistra e poi vediamo perché facendo così tu crei una disparità enorme infinita che poi diventa anche una disparità sociale tra l'altro diventa poi una disparità di reddito poi diventa una disparità di mille altre cose bisogna invece incoraggiare le persone a lavorare insieme per esempio una cosa che io dico da sempre è tu hai lo studente bravissimo e lo studente scarso ma perché non li metti a lavorare insieme perché non li metti a lavorare insieme così che magari lo studente più bravo possa aiutare lo studente un po' più scarso a migliorare perché poi quello lo scopo è migliorare non è arrivare tutti allo stesso livello e su questo su questo c'è un punto importante perché quello che hai detto scusa prego voglio fare una domanda di chiarimento guarda aggiungo questo e poi vai 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 Michele vai vai no sì no volevo dire che in realtà quella cosa di far lavorare insieme in un certo qual modo è stata messa in atto cioè nel senso noi oggi abbiamo classi che sono più inclusive rispetto al passato sono meno ghettizzate eppure la risposta dell'istituzione non è stata quella di creare un sistema che permetta alle eccellenze di trascinare il più possibile in avanti quelle che poi sono magari le persone con maggior difficoltà ma è stato l'esatto opposto cioè la scuola è proprio per quello che diceva Michele prima cioè per l'idea che non si possa più dire né pensare socialmente che poi ognuno di noi ha delle possibilità diverse da un punto di vista proprio di apprendimento di cognizione di comprensione ma anche passioni diverse ci sono giustamente persone a cui non interessa un cazzo del latino delle cose umanistiche sono più trascinate verso le cose scientifiche non c'è nulla di male e accanto a questo appunto c'è stata la risposta che per me è stata una risposta devastante su cui poi vorrei far vertere la discussione del fatto che la scuola ha detto sai cosa abbassiamo i criteri cioè le eccellenze diventano le cose che vanno smussate verso il basso e questo non solo nell'apprendimento anche nell'insegnamento e quindi questa cosa qua è una perversione bella grossa cioè se fai lavorare insieme le persone devi far sì che poi le persone che vanno meglio siano uno sprono per quelli che vanno un po' peggio non il contrario perché si crea una medietà drammatica prego Michele scusate ho staccato una domanda a lui una delle ragioni per cui a me pare che non sia il caso di appunto creare queste stratificazioni a 14 anni di fatto è che il processo di sviluppo delle capacità cognitive è ancora in corso sia di acquisizione del linguaggio ma anche proprio di formazione a livello assolutamente esatto e quindi se c'è una per carità c'è un dibattito adesso non voglio farla troppo lunga perché all'improvviso mi rendo conto che per fare la domanda ai non esperti bisogna menzionare 5.000 citazioni e referenze comunque c'è un dibattito su quanto gli effetti esterni di lavorare e studiare con persone più svegli di te più motivate di te possa o non possa avere un effetto positivo ma non c'è alcun dubbio che esista il problema è quanto grande è allora tanto per essere brutali come tanto Rick mi ha evitato per quello mettere il genietto che avrebbe fatto solo greco e alta matematica da 150 o 145 di IQ in classe per un po' di tempo almeno o nella stessa scuola almeno dove si incrocia con quello che è 98 o 87 che effettivamente avrà delle difficoltà è utile a quello di 87 e non è particolarmente dannoso a quello da 145 se quello da 145 poi ha degli itinerari degli spazi in cui lui vuole farsi topologia algebrica a 15 anni e fa topologia algebrica a 15 anni esatto corretto corretto al 100% ma ci aggiungo anche un altro elemento ci aggiungo che non solo non si è formato la capacità cognitiva a 14 anni non è finita poi appunto quanto siano le percentuali dell'ambiente influiscano e quanto sia la genetica questo non è dato saperlo bene ma c'è un altro fattore cioè il fattore è che l'IQ è forse anzi probabilmente è il primo fattore predittivo sui risultati scolastici ma il secondo però sono i tratti caratteriali allora non sta scritto da nessuna parte che la persona con l'alto IQ necessariamente abbia degli ottimi voti a scuola non sta scritto da nessuna parte e allora quello che succede è che da un lato noi le persone che hanno magari una predisposizione naturale magari meno esplosiva di altre vengono penalizzate ma non solo ma penalizziamo anche le persone che hanno un alto potenziale ma non hanno il carattere ancora formato o il tratto di personalità formato per eccellere a scuola perché tra eccellere a scuola ed essere molto intelligenti sono due cose molto diverse sono due cose correlate quindi molto spesso chi è molto intelligente va anche molto bene a scuola ma non sempre però quindi noi ci perdiamo tutti quelli che non sono eccellenti ma ci perdiamo anche quelli che sono eccellenti e non hanno i tratti di personalità giusti a 14 anni detto è uno spreco incredibile in più in più c'è da dire che questa è una cosa importante diceva Michele al ragazzino che ha 150 di cui non lo rovini a metterlo a lavorare con dei ragazzi che magari non hanno quelle potenzialità non lo rovini minimamente invece quelle altre persone le stimoli tantissimo quindi creare il ghetto la separazione non dà niente in realtà al genietto non gli dà niente di nuovo non gli dà niente di più perché tanto quelle capacità ce le ha già io faccio sempre esempio glielo ho parlato tante volte a Rick di un ragazzo con cui collaboro che si chiama Gabriele Gabriele Di Maggio che ha un canale youtube incredibile lui ha 13 anni e ha un canale youtube dove spiega la fisica e la matematica a livello magistrale agli universitari va bene questo il primo testo universitario che ha studiato ci aveva 7 anni allora non gli fai male a metterlo con altri ragazzi meno intelligenti perché tanto quelle capacità non gliele toglie nessuno non gliele toglie nessuno mentre invece gli altri avrebbero tanto da imparare dalla modalità dal tipo di attenzione dal tipo di metodologia quindi io sono contrarissimo proprio alla scuola ghetto è proprio quella che rovina tantissimi ragazzi in più ci mettiamo un'ultima ultima dimensione quindi c'è la dimensione caratteriale c'è quella dell'intelligenza ci mettiamo una terza dimensione che è quella psicologica perché ricevere a 13 o 14 anni un giudizio sulla tua persona che dice tu non sei bravo abbastanza è tremendo perché quello è il momento dello sviluppo è la preadolescenza totale sei in un momento in cui il tuo ego è fragilissimo e dire a un ragazzino o una ragazzina no tu non sei intelligente abbastanza ad andare al liceo scientifico taglia le gambe taglia le gambe quindi c'è anche l'aspetto psicologico che è terribile terribile quindi sì sì sono totalmente lasciate mi dire perché visto che faccio il politicante che queste cose adesso di nuovo io non sono uno specialista leggo per diletto un po' leggo anche perché è il mio lavoro puoi usarle no? puoi insegnare queste cose sono note in psicologia cognitiva notissime in detta pedagogia da ma quando io avevo 15 anni ok che la sinistra italiana che si riempie la bocca di tutte queste perché dico la sinistra perché è quella che si riempie la bocca l'uguaglianza di opportunità la partecipazione i poveri la disuguaglianza i provenzani e compagnia riempirsi la bocca e cazzo e poi teorizza l'opposto perché se c'è un gruppo sociale politico che teorizza queste scemenze della scuola gentiliana sono proprio loro ed è francamente una cosa fastidiosa perché fastidiosa anzi più che fastidiosa ipocrita perché il danno che questa roba fa questo biforcarsi a 14 anni a 13 anni i ragazzi si biforcano ci sono quelli eletti che vanno in centro al liceo e gli sfigati che vanno al professionale subito è orrendo orrendo io ricordo racconto sempre questo evento lo ho raccontato anche a Rick penso che mi ha veramente segnato ogni tanto ci ripenso e ancora ci sto male io ricordo di aver fatto un intervento a un'autogestione di una scuola professionale in cui mi avevano chiesto di parlare di metodo di studio eccetera eccetera e un ragazzino si alzò in piedi e per fare la battuta chiaramente per fare il provocatore e guadagnare un po' di risate con i suoi compagni mi disse una frase che lui trovò molto divertente e io trovai devastante cioè mi disse a me cosa serve il metodo di studio io so già che lavorerò al tornio questo ragazzino aveva 15 anni e io rimasi gelato gelato non sapevo più cosa dire a me non capita spesso di essere senza parole invece sono rimasto senza non sapevo cosa dirgli lui la vedeva come una cosa divertente io l'ho vista come un sono morto dentro io sono cresciuto come tutti sanno in un ambiente molto proletario sono morto ed è così cioè i miei amici proletari li ho salutati fondamentalmente alla fine della terza media ok e non è diverso adesso li ho salutati e io sono andato per la mia strada mi amico Gerardo ed altri loro sono andati al tornio al più gli incrociati che andavano per chi è di questa zona lo sa al Volta o al Pacinotti più fortunati ma ci siamo biforcati e molti di quelli anche se alle media non avevano fatto faville avrebbero potuto motivate e messi in un ambiente stimolate avrebbero potuto fare altre carriere altre vite altre secondo voi possiamo dire che questo aspetto che avete che avete esposto ha a che fare con il fatto che la scuola non fornisce più strumenti di comprensione ma fornisce appunto una serie di dati di nozioni pur nozionismo che poi non danno strumenti per far capire alla persona io faccio il mio esempio ok io faccio il mio esempio perché giustamente voi dite è drammatico io sono d'accordo con quello che dice Alessandro è drammatico che a 13-14 anni un ragazzino una ragazzina venga detto tu lì non ci puoi arrivare questo mi verrebbe di dire non lo dice solo la scuola e poi te lo dicono in tanti te lo dice tutto il mondo e quindi insomma quella stroncatura arriva un po' da ovunque molto spesso sono i genitori che dicono eh no guarda questa roba qua tu non la puoi fare magari te lo dicono in modo diverso però quello è un aspetto molto profondo però io quando sono uscito dalle medie mi è stata detta una cosa che mi ha messo in crisi al punto che ho avuto veramente un anno di crisi totali mi è stato detto puoi fare qualsiasi cosa che in realtà non era un ma che figo che sei Rick faccela come no era un non abbiamo la più pallida alba di quello che tu potresti fare nella tua vita cioè nel senso c'è un'estremizzazione da quel punto di vista e io mi sono trovato in crisi al punto che i miei genitori vista la mia crisi mi mandarono da una psicologa per fare un test attitudinale test attitudinale che fu una merda incredibile ho risolto a dire della psicologa degli esercizi di matematica che di solito erano di liceo avanzato quindi lei mi disse guarda tu devi fare assolutamente il liceo scientifico e quindi ho fatto il classico linguistico perché ho detto vaffanculo tu non mi dici cosa fare della mia vita anche se hai la professionalità brutta stronza e quindi è andata così e lì hanno capito che dovevi fare il filosofo esatto quella in realtà era proprio il perché volevo già fare il filosofo io avevo detto a mia madre a sette anni io da grande farò il disoccupato effettivamente signore e signori effettivamente quale strada migliore sono la filosofia quale strada migliore sono la filosofia quindi ho detto è stato di un analista parli balle vado a fare il classico linguistico e in realtà una scelta di cui non mi sono pentito però mi rendo conto che la scuola si arresa si arresa nell'adottare e creare modelli cioè attenzione non modelli del tipo modelli da imitare no si è arresa nel creare modelli che ti permettano di acquisire strumenti per capire cosa diavolo fare della tua vita quello che avete detto giustamente questa ghettizzazione che io chiamerei proprio schematizzazione dell'insegnamento che è una schematizzazione puramente contenutistica dell'insegnamento ma non nel metodo il metodo è ancora quello gentiliano la scuola non è cambiata nel metodo nella relazione fra studente e insegnante dagli anni 30 in poi questa roba qua impedisce a un ragazzo o una ragazza di 12-13 ma anche 17-18 anni di avere strumenti per dire ok io cosa voglio fare della mia vita e lì si inserisce secondo me il tema di quella che voleva essere l'alternanza scuola-lavoro che poi vabbè qua è stato fatto un macello incredibile però l'idea allora qui io vi lancio vi lancio la patata bollente l'idea che la scuola risultata e riconosciuta questa incapacità di fornire strumenti dica allo studente sai cosa noi non ti teniamo soltanto in classe ma ti mandiamo anche nel mondo del lavoro per un tot di tempo perché il mondo del lavoro attualmente riesce a darti degli strumenti per capire che quella roba la vuoi fare o non la vuoi fare la puoi fare o non la puoi fare e via dicendo poi purtroppo l'alternanza scuola-lavoro in Italia è stata una merda perché se andavi nello studio del commercialista ti facevano fare i caffè o le fotocopie se andavi di là quindi voglio dire è stato un macello incredibile però l'idea di un concordato che brutta parola concordato fra scuola e mondo del lavoro era un'idea importante però è sempre legata a questo a me pare che la scuola si sia arresa di fronte alla possibilità anzi al dovere che ha la scuola di fornire strumenti alla persona e non nozioni che tanto poi Alessandro lo sa benissimo dopo due anni vengono dimenticate cancellate dalla lavagna mentale se volete su questo c'è un commento di Cala che dice ricollegato a questo secondo me la cosa patetica è anche dire che tutte le motivazioni devono essere dentro la scuola ad esempio per me fare solo una magistrale in economia senza avere altri posti dove applicare quello imparato le triennali lo trovo triste siamo d'accordo che può essere dalla sezione politica al centro studi del paese eccetera poi può essere una cazzata ma la vedo così ma quante volte l'ho ripetuto il fatto che io ho imparato durante il percorso universitario ho imparato di più dalle associazioni che ho fondato mandato avanti e distrutto che non che non dall'università questo è triste devi aver fatto proprio un'università di merda beh Padova scusate perché le ho fatto filosofia a Padova è un'affermazione retorica usata per il momento o se davvero hai imparato di più dalle associazioni no nel senso sai cosa i corsi che hai fatto ti spiego a Maria Materdomini che cazzo li paghiamo a fare no no ti spiego cosa intendo non è retorica non è retorica in quello che io faccio entrambe le versioni sia retorica che fattuale ok ti dico quella fattuale quella fattuale è che per quello che io faccio oggi nella mia vita quindi per il mio lavoro le competenze che ho acquisito al di fuori dell'università in quegli anni mi servono di più rispetto a quello che ho acquisito nell'università tenendo conto anche del fatto che la buona parte delle cose che ho imparato anche proprio da un punto di vista nozionistico e filosofico non le ho imparate per i corsi e gli esami i corsi e gli esami purtroppo all'università di filosofia sono decisamente di scarsa qualità molto spesso quindi si è triste ma in realtà è fattuale io ti faccio una provocazione vai cioè quello che tu fai è fondamentalmente un lavoro di impianto imprenditoriale cioè in ogni caso tu hai avviato una tua attività che gestisci tu con i tuoi collaboratori eccetera è normale che un'università di filosofia non prepari a questo perché non è questo che fa cioè spesso si tira fuori questo discorso il fatto che l'università e la scuola non siano adatte al tipo imprenditoriale cioè alla persona che poi vuole crearsi una sua iniziativa dal nulla e io sono d'accordo con questo io stesso voglio dire una mia iniziativa imprenditoriale e quello che ho imparato l'ho imparato sul campo come si solizionano le persone come si gestiscono le persone questo non è una cosa che ho imparato certo a linguistica la domanda però provocatoria che mi viene è possibile e questo forse è Michele che può rispondere di più è possibile creare una facoltà che insegni l'imprenditorialità a me non sembra granché probabile che esista questa cosa qui quindi dico forse Ricca certo certo no no questa hai ragione non avrei potuto trovare da nessun'altra parte capito questo che cercavi e allora l'esperienza di creare un'associazione è invece un qualche cosa di imprenditoriale in natura e quindi certo hai imparato di più da quello non so sì sì no ma sono d'accordo ma infatti io rispondevo al fatto nel senso ho imparato di più e rispondevo alla domanda di Kala che diceva non puoi accontentarti dell'università c'era quella la considerazione però sì sono pienamente d'accordo con quello che hai detto dipende da quello che intendevi io l'avevo inteso anche nel senso della filosofia no no vabbè no 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 l'imprenditorialità sono una orale oddio dipende anche quello perché capiamoci vi sono le doti cognitive le capacità le intuizioni la creatività che servono per fare l'imprenditore proprio l'imprenditore sono di uno la start up e queste cose certo ovviamente da un lato le doti non te le insegna nessuno e dall'altro il complesso di skills che poi metti assieme se ne hai la capacità e usi non si insegna a scuola si insegna in tante scuole però quindi avere stimoli intellettuali validi no è importante cioè i mitici adesso lasciamo stare insomma anche l'imprenditore più banale sto pensando a un mio zio che ha fatto un certo successo nel settore della chimica alla fine ha usato per inventarsi gli antibiotici e i razzi per ieri le cognizioni che aveva preso bene di chimica industriale no la sempre quindi c'è questo una scuola di qualità stimola l'imprenditorialità perché fornisce strumenti che puoi usare se sei creativo per poi creare gli oggetti che ti servono certo le scuole di business serve un'altra cosa infatti normalmente nelle scuole di business si consiglia vienici quando hai già una mezza carriera serve per il salto di carriera ti insegniamo tecniche da manager e non da imprenditore quindi sono d'accordo però è vero che mi dovrete scusare non è che manca la capacità imprenditoriale italiana in assoluto però guarda caso noi creiamo pochissimi imprenditori nei settori di frontiera perché perché nelle università italiane manca mi capite insegniamo cose poco di frontiera quindi chi ha in breve lo stimolo creativo a volte non c'è gli esperimenti credo che questo sia valido anche per Rick proprio l'esperienza sua alla fine hai mischiato lo stimolo creativo con gli strumenti e sono sicuro che alcuni strumenti potevi impararli prima assolutamente sì magari li avessi imparati prima Fede c'è la domanda di Chiabonni che è molto interessante sì esatto posso fare il solito esagerato io vorrei dire una prima frase no perché secondo me è importante seguito alla cosa per tu Alessandro la domanda hai fatto tu non è che la scuola ha rinunciato ok sarò molto cattivo la scuola italiana quella vera cioè quella fatta degli insegnanti dei suoi programmi di chi la dirige non gliene è fotto un cazzo di fare perché e lasciatemi essere brutale e ci sono le solite eccezioni ma l'insegnante specialmente di scuola media superiore italiana è un laureato giusto allora andate a controllare io vorrei scommettere che il 70% hanno fatto il liceo prima di andare all'università certo non so se qualcuno ha i dati io non ce li ho però vado intuizione sociologica bene costoro si considerano un'elite e non ritengono sia la loro funzione fare tutte quelle belle cose che avete detto prima su questo sono molto alti non se avete mai letto le teorie di Luis Altius era l'argomento accolto loro fanno parte di un apparato dello Stato sono disegnati per stratificare le loro frustrazioni di essere pagati 1500 al mese sono anche compensate dalla bavetta alla bocca quando bocciano allora lo so che ci saranno centinaia di insegnanti che non hanno questa attitudine e che diranno sei uno stronzo capito niente avete ragione voi 5.000 voi 100.000 voi 100.000 che la vivete così però sapete quanti siete non siete 100.000 siete un milione e tre ah si eh già eh questa è io ho il polso degli studenti io ho il polso degli studenti la scuola non è disegnata per fare quella bella cosa che Alessandro e Riccardo e quindi non è che ha rinunciato è che proprio disegnata e non ci ha mai provato io io sento ogni giorno migliaia di studenti e ed è triste constatare allora sicuramente alcuni di loro quando raccontano le loro storie le loro cose esagerano perché c'è anche quel meccanismo lì però se anche solo la metà delle cose che io sento ogni singolo giorno sono vere eh tocca dare abbastanza ragione a Michele eh questo è è un problema è un problema è un problema grosso io sono per esempio dell'idea adesso non so cosa ne pensa Michele adesso lancio la provocazione che uno dei motivi di questo sia che vengono pagati troppo poco e che certe persone particolarmente ambiziose non finiscono a fare quella carriera una delle prime cose che farei è alzare i stipendi è motivo che causa sono d'accordo e sia come abbiamo discusso mille volte sia motivo che causa per cui ci vanno delle persone otteni scimmie d'altra parte se non sei disposto a fare la distinzione fra le scimmie e gli umani e tratti tutti a noccioline gli umani dicono sai arrivederci e il lemon nell'altra versione si chiama adverse selection prima c'era self selection adesso c'è l'adverse selection prima che hai descritto tu è l'adverse selection siccome pago mi ricordate come ha fatto il lemon problem per cui Hackerloff prese il premio 9 semplicissimo non so distinguere fra macchine buone e macchine cattive siccome non so distinguere fra macchine buone e macchine cattive usate le pago uguali con prezzo meno allora quello che sa che ha la macchina buona dice col cazzo che vengo a vendere la 500 quando so che vale 1000 e di nuovo entriamo mi danno 1000 invece di 100 io vado di corsa e di nuovo entriamo entriamo nell'ambito entriamo nel stesso discorso problema che diciamo prima così come nell'ambito degli studenti non c'è non so se ci sia mai stato un sistema di creazione di criteri che misurano le competenze acquisite la stessa cosa vale per gli insegnanti quante volte l'abbiamo detto io Michele cioè nel senso il problema e l'abbiamo detto con gli invalsi l'abbiamo detto un sacco di volte prendendoci un sacco di merda giustamente l'accettiamo non è un problema tanto abbiamo l'ombrello molto ampio però il punto è che effettivamente c'è un rifiuto endemico della scuola che è un rifiuto di valutare il merito il lavoro degli insegnanti e guarda caso poi però gli insegnanti come diceva anche Alessandro Prima la prima cosa che fanno è andare a valutare gli studenti però senza quei criteri quindi c'è proprio è un contrapasso talmente perverso che fa che fa paura e prima di passare alle prossime considerazioni sentiamo la domanda di Chiabonni perché si ricollega una cosa che ha detto Alessandro e mi interessa sentire anche la risposta perché anche a me interesserebbe sentirla esatto Chiabonni dice sono una neoprof e lavoro in un istituto professionale tutti i giorni i ragazzi dicono cose come quella del tornio ho sentito anche più volte dire tanto sono o siamo dei falliti con tanto di amare risate datemi un consiglio vi prego quella è la cosa migliore da dire o da fare di fronte a queste uscite quindi è vero che non c'è molta motivazione da parte della scuola ma al tempo stesso c'è anche un'autodeterminazione da parte dei studenti che è abbastanza grave allora posso iniziare perché mentre leggevo la domanda Fede leggeva la domanda mi è venuta in mente intanto una considerazione la prima secondo me è bisogna cazziarli perché ne ridono cioè nel senso prima di tutto secondo me dobbiamo abbandonare questa stronzata che è una stronzata culturalmente diffusa del trattare le cose che ci colpiscono in modo drammatico con la risattina di scherno cioè bisogna far rendere conto questi ragazzi che quello che dicono è vero ed è il motivo per cui non devono riderne e invece abbiamo costruito questa società di rincoglioniti di quelli che che producono i contenuti che rincoglioniscono ovviamente siamo convinti che l'ironia e il sarcasmo sia una chiave interpretativa della realtà e invece cosa è successo ah è Michele ok Michele ho preso paura pensavo stessi schiaffeggiando qualcuno uno studente dell'ITIS stava picchiando uno studente odio il scarcasio odio il buttare tutto in vacca lo sai ne abbiamo già discusso è drammatico ho applaudito ho applaudito sì sì ma io non ti vedevo quindi ho sentito schiaffone ho detto Michele stava picchiando un liceale un liceale che teneva lì scusa scusa allora appunto quindi quella è la prima cosa secondo me bisogna quando una cosa che io ho anche fatto perché anche a me è capitato di assistere a scene del genere la prima cosa che dico ma che cazzo ne ridete cioè nel senso ragazzi il problema è che ci avete ragione dovreste riderne se invece fosse un iperbole e non lo è e non lo è invece stiamo trattando tutto come se fosse un iperbole quindi secondo me la prima cosa è quella far vergognare le persone della propria ironia malposta è un metodo fondamentale questo adesso sentiamo cosa dicono Alessandro e Michele vai Ale ma mi permetto allora intanto mi permetto di dire che non sono uno psicologo quindi non so se le mie armi persuasive in questo caso funzionano però io quando sento queste cose qui rispondo con aggressività non aggressività verso il ragazzo ma aggressività verso questa esternazione me li mangio me li mangio cioè mi arrabbio e appunto dico loro due sono le possibilità o è vero o non è vero se è vero dovresti fare in modo di non riderne se è falso dovresti fare in modo di cambiare questa situazione perché se va avanti così diventa vero quindi mi faccio un culo così perché io credo che non sono un esperto di motivazione però io credo che nel momento in cui un ragazzo si auto identifica con una ragazza ovviamente con il fallimento ci voglia una terapia shock bisogna dirgli in faccia cioè se continui a pensarla così lo sarai un fallito certo e allora no 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 ed è una una posizione netta io poi però mi metto anche nei panni di un insegnante che si trova in un contesto quindi non deve essere veramente facile ci vuole una resistenza psicologica notevole io credo che per rispondere alla domanda non ricordo il nome di chi ha fatto la domanda il nickname però per rispondere alla domanda io se fossi l'insegnante in classe cercherei di ispirare un pochettino quei ragazzi a cambiare il loro desiderio poi alcuni di loro effettivamente quella profezia si avvererà ma magari qualcuno di loro se gli fai venire in mente che esiste qualcosa al di là di quel futuro che loro ormai hanno già visto come definito magari si salvano da quel futuro io procederei così sì 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 è giustissimo guarda questo aggiungo questo tema del modello cioè che l'insegnante noi ci siamo dimenticati l'insegnante dovrebbe essere un modello ma non un modello tipo che io voglio diventare come il mio insegnante no un modello del tipo cavolo io un giorno voglio parlare delle cose di cui parla con lo stesso entusiasmo voglio essere pervaso dalla stessa energia c'è un film che se non l'avete visto vi consiglio che è l'ultimo film di vinterberg che si intitola un altro giro o l'ultimo giro no un altro giro e parla di insegnanti in danimarca è una storia vera peraltro che smaronati dall'esistenza della quotidianità quindi sono insegnanti che erano motivati adesso non lo sono più e quindi le loro lezioni sono di una noia pazzesca al punto che persino gli studenti si lamentano del fatto che agli esami non riusciranno a passare perché non riescono ad imparare questi non trasmettono nulla e via dicendo e questi al posto di porsi il problema del dire ok adesso come faccio a ritrovare l'energia di un tempo cominciano a bere cominciano a bere perché sono convinti che un piccolo tasso di alcol nel sangue c'è un filosofo io ho scoperto che è vero c'è un filosofo che ha detto noi abbiamo un deficit di alcol nel sangue quindi con un minimo stato di ebbrezza riusciamo a tirare fuori il meglio di noi poi però loro ovviamente esagerano ed è un film che pone quella questione lì cioè l'insegnante dovrebbe essere anche un modello oh ragazzi io questa cosa l'ho già raccontata però per me è stata una lezione di vita la mia insegnante di matematica a me alle medie matematica piaceva sono arrivato alle medie che è una cosa che mi piaceva e ho avuto un insegnante in seconda e terza media a me è quella di filosofia no non è quella di filosofia no no alle medie a me a te è quella di filosofia poi quella di inglese ecco vedi perfetto in inglese per raccontare delle poesie perfetto no allora sta prof in seconda e terza media ragazzi ogni mattina quando arrivava a lezione i primi dieci minuti erano di racconto morboso sulla sua depressissima vita era una roba era una roba da spararsi in vena ragazzi la cosa divertente è che lei passava questi dieci minuti di confessione anche se le chiedavamo però dei bambini delle medie che cazzo vuoi che chiedano all'insegnante finché questa parla di depressione tu pensi ai videogiochi ad altre robe ok e io mi ricordo che con alcuni cercavamo a un certo punto ci siamo messi in testa di stimolarla e tipo mi ricordo questa roba qua ok perché era in prima media in realtà io mi ricordo che c'era questa lezione di matematica si arriva all'idea molto elementare del più per più fa più più per meno fa meno meno per meno fa più e io dico prof io da un punto di vista della logica capisco perché più per più fa più e meno per meno fa più ma perché più per meno fa meno non riuscivo a capire questa roba e lei mi rispose con sto sguardo io ce l'ho ancora in mente ok con sto sguardo mi guarda proprio come dire che cazzo vuoi ok e mi fa perché così è scritto nel libro e basta ok e di fronte a tutte le curiosità che io le chiedevo da bambino lei rispondeva con questa roba qua oh vi giuro che mi ha talmente smaronato che io poi appunto forse è stato uno dei fattori che mi ha fatto dire al test disciplinale attitudinale col cazzo che vado a farlo scientifico vado a studiarmi Seneca cazzo e quindi io mi rendo conto che il tema dell'insegnante come modello è che poi quando lo poni la risposta che ti viene data è provaci tu cioè la risposta che io mi sono sempre trovato di fronte è dura provaci tu certo che è dura però dovrebbe essere quello il primario lavoro soprattutto se non riesci a farlo cosa assolutamente legittima non fai quel lavoro esatto cioè nel senso è difficilissimo fare l'insegnante io per esempio non credo che avrei la capacità di stare in classe sei ore al giorno a ispirare gli studenti semplicemente se non ce l'hai non devi fare quella cosa lì io penso che se in qualunque altro posto di lavoro di qualunque tipo tu performassi come performava quella tua professoressa cioè se tu arrivi in ufficio e passi la metà della giornata a parlare della tua vita vieni licenziato nel giro di un anno sì sì questo è io adesso non è che dico bisogna licenziare gli insegnanti però anche sì lo dico cioè c'è un senso a un certo punto c'è guarda c'è Michele c'è Michele c'è Michele in chat che sta facendo il sedizioso ho già scritto esatto allora mentre noi discutiamo c'è Michele che fa il chaotic evil agent dentro la chat dicendo vedete vedete cosa bisogna fare movimento studentesco per far licenziare la gente microfono Michele microfono 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 spento microfono spento ognuno qui fa la sua parte giustamente Alessandro fa il tecno dice questa cosa io concordo tu fai il gestore del luogo io faccio il pubblico intellettuale sedizioso delle implicazioni politiche mi dispiace sì questa cosa noi possiamo continuare a parlarne all'infinito ragazzi personalmente ne discuto con italiani da da quando ero in università già mi ricordo conversazioni di questo tipo con colleghi tipo uno che è diventato rettore a Venezia poi c'è anche provato Carlo Carraro quindi robe vecchie i 40 anni o e nasce un movimento politico che lo chiedo questa cosa è completamente assente dalla dalla cultura italiana e dal dibattito anzi le eliti italiane la rigettano cioè queste affermazioni mi hanno costato anche amicizia anche rispetto ma io non è che mi preoccupi ma nei salotti buoni dove si parla con la R Mosha e penso di aver capito le società antiche perché hanno letto tre stronzate di greco che non ricordano più ok io sono considerato un buzzurro ma non mi preoccupo perché io ho detto queste cose qua e ora queste cose qua sono vere ma se non c'è un movimento politico che le renda degne di essere dette e le imponga nel dibattito nazionale non accadranno mai e non è una questione come dire di soddisfazione intellettuale è che come tra l'altro l'attuale Presidente del Consiglio è perfettamente consapevole però ha i vincoli che ha da questo dipende il futuro del Paese sì sì uno dei fattori di arretratezza maggiori a mio avviso il maggiore della società italiana e questi sono questi aspetti che abbiamo discusso della strutturazione della scuola media media superiore e di conseguenza dell'università senza quello non c'è scopo ma questi sono problemi politici perché perché questa strutturazione della scuola italiana di nuovo al QSE leggetevi gli iscritti dal vecchio pazzo sugli apparati sugli apparati dello Stato e la loro riproduzione e la loro funzione riproduce la stratificazione la cultura dominante che li giustifica quindi non c'è non è che ci siano molte alternative noi come dire intellettuali alternativi o quello che volete o liberi quello che volete noi cittadini che la vedono diversamente possiamo raccontarsela fra noi tre quanto vogliamo tra l'altro io cerco sempre non è politica non vale un pifero io cerco sempre di stare lontano dalla politica pura però io credo che questo dovrebbe essere un tema di sinistra perché questa roba qui paradossalmente paradossalmente blocca l'ascensore sociale quindi questo dovrebbe essere un problema di chi ha a cuore le classi sociali è l'ascensore sociale è la sinistra è la sinistra che dovrebbe questo lo sappiamo l'ascensore sociale è questa roba qua non c'è altro ascensore sociale però io vedo che ho tanti amici insegnanti ho tanti amici di sinistra io stesso mi definisco una persona moderatamente di sinistra però quando tu tiri fuori un argomento del genere in mezzo a una tavolata dove sono tutte persone di sinistra non dico che volano i piatti però però quasi però quasi però invece dovrebbe essere proprio una battaglia cioè tu lo scopo della sinistra dovrebbe essere prendiamo le classi che poveracce non hanno le stesse opportunità di quelli e tramite l'istruzione le opportunità economiche li portiamo su e li miglioriamo l'uguaglianza guarda io mi sono fatto questa io mi sono fatto l'idea che questo dipende dal fatto che quando l'ascensore sociale ha veramente funzionato che è stato dopo la seconda guerra mondiale perché se ci guardiamo bene in faccia è quello per cui l'ascensore sociale ha funzionato quindi permetteva la scalata e anche il cambiamento di vari vari step proprio all'interno della 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 conformazione economico e sociale del nostro gruppo insomma dell'Italia lì ci sono persone che hanno saputo scalarla in alto e poi negli anni 70-80 e questo è dimostrato da decine di politiche che state messe in alto non solo nella scuola pensate solo alle pensioni pensate a tutto quanto qualcuno cioè chi ha conquistato quella scalata sociale con l'ascensore negli anni 40-50-60 ha detto se io però continuo a mantenere aperta questa cosa qua rischio rischio di perdere la posizione che mi sono pigliato e quindi cosa è diventato è diventato un conservatorismo di quelli che l'ascensore l'hanno scalato ieri e questa cosa qua dobbiamo rendercene conto cioè adesso non è che perché io e Michele Boldrin siamo i fantasisti liberisti e via dicendo diciamo queste stronzate qua però il punto è che quella che oggi viene chiamata sinistra progressista in questi ambiti in questi discorsi qua è il peggior conservatorismo che si possa immaginare poi lasciamo perdere che comunque Salvini comunque Lameloni comunque queste cose qua non cambierebbero nulla di questo cioè non esiste come diceva Michele come diceva Michele non esiste oggi una proposta politica seria unitaria conformata e organica e organizzata che proponga questa cosa qua di dire rimettiamo in moto l'ascensore sociale lo si fa soltanto sulle cose che poi sono puramente retoriche ok quindi la patrimoniale i 10.000 euro per i 18 anni ma che cazzo fai con i 10.000 euro per i 18 anni se poi in realtà la scuola è un puro tentativo di conservare privilegi diritti acquisiti che si sono incancreniti e che impediscono un poro quindicenne di porsi anche solo la domanda cosa voglio essere a 25 anni che mestiere voglio fare e questa roba qua è devastante 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 c'era una veloce considerazione di Runa48 che dice non dimentichiamoci però che il mondo visto da un quindicenne è molto diverso da come poi lo si percepisce dopo nell'ultima parte del discorso mi sembra che state facendo l'errore di approcciarvi alla questione come se avesse davanti persone formate completamente consapevoli quando nella maggior parte dei casi non è così non mi è sembrato però a me non pare è stato un non ho capito cosa vuol dire non ho capito l'obiezione me la spieghi che è detta molto semplicemente secondo Runa48 l'ultima parte del discorso sembra che voi la guardiate da una prospettiva molto più razionale rispetto a quello che effettivamente un quindicenne la vedrebbe nel suo ma infatti non deve vederla lui è l'insegnante è l'insegnante esatto non penso che abbiamo parlato è normale che deve essere guidato a parte che non ci sono solo i quindicenni sono anche i diciotteni diciamo neanche i ventenni perché poi questa cosa ha una coda guardate che io che adesso da 4-5 anni insegno questi pochi corsi da visiting a Caffoscari brevi per carità però insomma un po' di studenti italiani ventenni ho cominciato a conoscerli questa cosa è una coda cambia atteggiamenti attitudini preparazioni tra l'altro questa cosa che dicevate prima tanto ho messo non ho un destino me lo sono sentito io quando ho fatto delle filippiche a Venezia però ne ho fatto una un paio veramente pesanti dicendogli molto bruttamente guardate io non vi capisco cioè avete davanti uno a insegnarvi che alla fine è uno dei 10 italiani bla 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 e sono qua a insegnarvi e vi dico venite in ufficio studiate ma perché non ne approfittate ma possibile perché non ne approfittate e la risposta sincera di alcuni stati non fa nessuna differenza ragazzi della magistrale di economia dell'università di Caffoscari che è considerata in questo campo una delle migliori d'Italia a dirmi così cioè io ci sono rimasto li avrei non sapevo se prenderli a schiaffi o piangere per loro cioè davvero a 24 anni in un posto non puoi dire provviso non fa nessuna differenza certo certo quindi mi domando l'atmosfera ci sono anche i ventenni e i ventenni che atmosfera di sfiducia c'è perché uno che atmosfera di sfiducia c'è per arrivare ad andare dal professore di quel livello e dirgli non fa nessuna differenza tanto sono condannato che razza di sfiducia enorme abbiamo prodotto è una cosa veramente cioè questi ragazzi si sentono senza via d'uscita questa è una cosa veramente e poi si collega questa cosa qui con il fatto che poi questa gente qui quelli che si sentono quelli che basta non vedono più uscita vengono schiacciati quelli che vedono una qualche uscita la vedono fuori dal confine e allora poi prendono un aereo e vanno da un'altra parte e poi questo dopo così noi ci rimangono solo gli sconfitti da noi e quelli quelli top vanno a prendersi le medaglie fils da qualche altra parte ecco assolutamente questo stesso processo ovviamente crea quella roba lì di nuovo adverse selection il pequeno un paese così bla 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 tutta questa roba alla fine ma io li vedo anche di nuovo anche qua anche qua io vedo che tutti gli studenti nel top delle classi che ho incontrato a Venezia a Bologna a Bocconi quelli pochi posti dove sono andato a fare venivano tutti a dirmi mi dai una mano voglio andare fuori può mandarmi una lettera cosa mi raccomando è una roba spaventosa eh sì e chi si ritiene sfigato lasciate che vi dico un'altra roba questa roba dell'esternalità è cruciale chi si ritiene sfigato diciamo poi parlo a coloro i quali come dire in questo momento mi guardano e dico guarda che cretino arrogante borioso sessantenne ok boh mi sono sfigato mi sono nato Pooretto anche a me non importa forse ti sei nato Mona mi no boh adesso mi crede così sì sì no perché io le cose vanno dette boh ti sei nato Pooretto io sono sempre stupito di fronte all'umorismo sottile sappi che comunque la tua vita è migliore se riesci a trattenere qua i nipotini di Baudrey perché è molto meglio essere quello che pulisce i pavimenti sarà brutale è molto meglio pulire i pavimenti a uno molto bravo che ha un costo opportunità del tempo altissimo è disposto a pagarti parecchio perché tu gli pulisci i pavimenti efficacemente ti sparisci che non a un incompetente che è poco bravo guadagna poco e ha un costo opportunità del tempo bassissimo tanto per essere il segretario che fanno stessa funzione ma di due soggetti che uno fa un milione all'anno e l'altro fa 30 mila all'anno quei due segretari guadagnano stipendi enormemente diversi e la ragione è che il segretario di quello che guadagna un milione all'anno di euro gli risparmia un tempo opportunità che è altissimo che è un tempo che ha un costo opportunità altissimo scusate per una rifletta salto le parole mentre quell'altro gli risparmia un tempo che non vale un cazzo quindi lo paga un cazzo quindi rendetevene conto anche se assumete di essere sfigati che non c'è scampo che bla 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 infatti poi quello no ma sono d'accordo il discorso che faceva prima Alessandro quando abbiamo parlato di la cognizione poi l'ambiente il carattere e tutto quanto trovo che in questo tipo di discorso che io condivido pienamente cioè è la scuola che deve riconoscere queste diversità e riuscire in qualche modo a potenziarle a metterli in uso a permettere a questi ragazzi di dire ok io sono fatto così però queste cose posso usarle nessuno di noi è un ostacolo a se stesso se non se gli altri non ci convincono di questo poi diventa la retorica che adesso Michele ha appena esposto del tipo non ho mai avuto il carattere giusto non ho mai avuto la possibilità non ho mai avuto questo e c'è questo cortocircuito assurdo per cui quelle giuste considerazioni di Alessandro diventano l'alibi che ognuno si dà per il fatto magari che non ci ha mai provato quindi c'è questo cortocircuito assurdo ai cui io insomma cerco sempre di dire a tutti non cadeteci da questo punto di vista io a chi ci ascolta consiglio sempre con tutto il cuore lo sapete la lettura di Viktor Frankl leggetevi Frankl Frankl vi apre un mondo cioè veramente è una delle letture che possono davvero aiutare chiunque adesso senta il fatto di dire troppo sfigato non ce la faccio impossibile oppure sarò un fallito ancora peggio sarò un fallito sarò un tornitore sarò solo questo la prima lezione che io ho imparato è quando ti senti così mettiti a studiare qualcosa che ti appassioni non c'è veramente nient'altro per me è la mia esperienza ma ho visto talmente tante persone tirarsi fuori da un momento di merda perché hanno letto la cosa giusta perché hanno sentito il discorso giusto fra le pagine di un libro che ormai per me è una regola quasi universale studiate incontrate qualcosa che vi appassioni se volete per me un autore come Viktor Frankl può veramente tirare fuori dalla merda una persona che pensa di essere destinato soltanto al fallimento credo sia fondamentale ma tra l'altro l'apprendimento stesso lo studio stesso è la dimostrazione del tuo controllo sulla realtà quando tu impari a fare qualcosa che prima non sapevi fare quella è la dimostrazione suprema della tua capacità di evolvere quindi non c'è niente che dia soddisfazione di più di dire io non so fare una mazza dalla mattina alla sera adesso imparo a fare siti web a cazzo di cano magari non lo vuoi fare nella vita non te ne frega non importa io ricordo in un momento io purtroppo l'ho anche raccontato ma più riprese nella mia vita ho sofferto di depressione uno degli ultimi momenti in cui purtroppo stavo male e me ne sono tirato fuori io me ne sono tirato fuori imparando a fare il modellismo va bene? cioè io a un certo punto mi sono appassionato di questi modellini di robot dei Gundam i Gunpla cosiddetti i giapponesi e mi sono e per sei mesi ho imparato tutte le tecniche come si faceva fare bene il modellino come si riproduceva lo sporco come se sembrasse che il robot avesse combattuto in battaglia tutte cose che non servono assolutamente a niente cioè non è che ho imparato delle skill utili ho imparato a distinguere la grana della carta vetrata per smerigliare il pezzo del modellino e usare l'aerografo per pitturarlo e imparare a fare quella roba lì mi ha ridato fiducia in me stesso e non c'entrava niente non è una cosa io non costruirò modellini in vita mia chi se ne frega ma imparare qualche cosa che può essere leggere un autore come dicevi tu o imparare una skill pratica utile imparare una lingua o imparare qualcosa di completamente superfluo come a fare il modellino di Gundam è comunque un modo di esercitare un controllo sulla realtà e di dire no aspetta io posso migliorare in tutto secondo me sono d'accordo l'apprendimento è la chiave sì 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 sono molto molto d'accordo e Michele non so se hai qualcosa da aggiungere magari adesso questa osservazione che avete fatto io le trovo occorre anche ricordarsi una cosa però lasciatemi essere realista l'apprendere da soli è un lusso riservato a pochi questo è vero questo è vero senza dubbio credo che Alessandro lo sappia questo è vero l'autodidattismo perlimitato con i noti le note ironie sartriane che sappiamo e di altri è comunque un lusso anche quello riservato a pochi e quindi il problema della struttura dell'istituzione della collè rimane sì sì assolutamente assolutamente d'accordo che la reazione individuale di quelli gifted sia fuck you I'm gonna do it myself ci sta però devo anche riconoscere che è un lusso riservato a pochi agli altri c'è bisogno di uno sforzo politico per offrirgli una roba diversa sì è vero io sono proprio cioè se questo faccio fatica a pensare che la soluzione individuale sia la soluzione la soluzione individuale è sempre stato il conflitto della mia vita in un certo senso essendo un altro povero sfigato ma essendo un reso conto a una certa età qualche dot ce l'avevo mi sono detto vabbè io me la risolvo per me però poi la classe non è non credo non credo sia la soluzione ma veniamo su un altro terreno guarda rispondo solo a questo e poi leggiamo un paio di domande io credo che questo sia un punto importante lo studio l'autodidattismo non è la soluzione però ha un fondamentale una fondamentale caratteristica in una buona parte dei casi ti fa incontrare la gente giusta cioè quando tu cominci a conoscere quando tu cominci a fare qualche cosa è molto probabile che questo ti faccia incontrare altre persone che condividono quell'aspetto quella passione quindi in realtà l'autodidattismo potrebbe essere la strada per farti incontrare gli altri non fare più da solo quella cosa però vabbè qui si entra veramente come diceva Michele in un campo diverso ma era uno stimolo importante Fede abbiamo il tempo giusto per un paio di domande e sentiamo vai le leggiamo adesso le incontriamo nella puntata beh c'era la considerazione di Orangif che dice Laura Gentiliana che domina la scuola italiana penso sia evidente nell'osservare la presenza dell'ora di religione all'interno del monte orario e tutto ciò che ruota attorno ad essa come per esempio il fatto che gli insegnanti sono nominati da un organo esterno a quello statale ma vengono pagati con i soldi pubblici voi mi volete far finire nei guai più che una domanda è una considerazione questa non c'è molto da dire quello per me l'ora di religione è l'emblema di quanto sia disperso il metodo della scuola nel senso io ho stato fortunato io durante l'ora di religione ho avuto un insegnante intelligente che mi ha in parte appassionato al dibattito perché durante la sua ora cazzo ci prendevamo a randellate a suon di argomentazioni è stato molto importante per me però nel 98% dei casi l'insegnamento della religione è una roba nella migliore dell'ipotesi superflua altrimenti diventa dannosa e il metodo con cui poi vengono selezionate queste cose qua è totalmente sbagliato quindi non c'è proprio per me non c'è niente da salvare nell'ora di religione a scuola ecco non so se avete qualcosa da aggiungere però io sono perfettamente d'accordo allora quali do il rendito del gentilismo del fascismo già 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 allora prima la domanda velocissima per Rick ovvero che libri consigli di Frankl visto che ne hai parlato ah e beh allora di Frankl sicuramente il primo libro da leggere è uno psicologo nei lager l'uomo in cerca di senso è un libro straordinario un libro che ti fa capire quanto qualunque sia il problema da cui arrivi i problemi di te stesso che puoi risolvere sono ancora più insormontabili cioè Frankl viene fuori dal lager da Auschwitz ha fatto degli anni nel lager perché era ebreo viene fuori con l'idea che l'unico modo per trarsi fuori da quella situazione sia darsi un nuovo significato cioè trovare dare un significato della propria vita e non arrendersi al fatto di essere colui che è stato vittima di credo che questa sia una delle idee più potenti nella storia del novecento la cosa che ti distrugge è pensare che tu venga definito da quello che hai subito questa idea di Frankl è straordinaria ed è il motivo per cui ripeto perché oggi un ragazzino a 15 anni dice sarò un fallito perché si definisce sulla base di ciò che gli è stato mostrato finora e si è disabituato a dire ok finora magari sono stato un fallito e mi hanno detto che lo sono ma io a 25 anni voglio essere una cosa diversa mi do una direzione diversa e metto in campo le mie capacità e anche la forza degli altri che ho intorno per cambiare quella direzione per me Frankl è il filosofo e psicologo di questa idea quindi leggiti l'uomo in cerca di senso una volta letto quello se ti innamori di Frankl leggi tutto quanto di suo perché è un autore che ti apre veramente la testa sotto mille punti di vista poi ecco vabbè ho fatto dei video su Frankl quindi magari recuperateli però sì direi questo poi una domanda che scome potrebbe essere utile come conclusione è quella di Vini Pazienza che dice faccio una domanda che riguarda me e molti altri studenti che hanno circa fra i 23 e i 30 anni fino a che punto uno studente universitario che è stato incasellato e si è adentrato in un percorso che non gli appartiene può recuperare ed intraprendere una carriera o un percorso per cui hai portato ma se risponde prima Michele poi vado io che disonesto no non rispondo sorridevo perché io faccio il mio lavoro vi capisco ragazzi cercate soluzioni individuali non sono quello adatto per dar consigli soluzioni individuali te le trovi a solo e neanche Ricchi e neanche Alessandro sono capaci non esiste la scienza di spiegarti cosa devi fare nella vita come diventare grande assolutamente sono d'accordo sono molto d'accordo sono molto d'accordo io posso portare la mia esperienza individuale io sono rimasto incastrato in un percorso che non era il mio non era il mio palesemente io mi sono iscritto sono uscito dal liceo classico ho raccontato tante volte come un arrogantello umanista che snobbava la scienza e pensava che l'unica cosa importante nella vita fosse leggere le poesie ho frequentato lettere lettere moderne a lettere moderne ho capito che ero un imbecille e che non era quello che io volevo fare nella vita però sono rimasto cocciuto dentro il percorso di lettere poi ho studiato linguistica che mi è piaciuto di più perché era la cosa più scientifica poi ho invertito completamente ho detto cos'è la cosa più scientifica che posso fare dopo la triennale in lettere vado a fare linguistica e ho fatto quello però quindi tra l'altro io l'ho vista la vostra trasmissione su Chomsky un giorno è che qua bisogna stare attenti questo mi interessa dimmi dimmi in realtà sono molto d'accordo poi io devo salutare perché stiamo tirando sì 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 comunque finisco il discorso poi e niente quello che posso dirti è che se sei certo o certa Vini di essere in un percorso che non è il tuo cambialo tanto comunque non otterrai niente a continuare io ho voluto ho fatto il cocciuto ho continuato ho una laurea in lettere non me ne faccio nulla poi quando sei cocciuto sai cosa succede quando sei cocciuto quando cadi hai molti più cocci da raccogliere perché è quello che significa cocciuto comunque per rispondere a Michele io ero d'accordo con la sua posizione su Chomsky però nessuno si può permettere però Chomsky è la divinità protettrice ma va a cagare qualunque cosa dica il sommo io mi chichino e anche quando ho ragione lo stesso essendo un cultore di Chomsky letteralmente da quando ero al liceo che voi non eravate ancora nati voi eravate appena nati lo ho anche è grandissimo però insomma lo considero molto più standard come linguista oggi o psicologo cognitivo di quando lo considerassi 40 anni fa nello specifico è un'altra roba poi vi manderò vi manderò un articolo che mi è stato mandato dopo quella puntata questo è quello che dovresti fare Rick visto che molti di tuoi ascoltatori te lo dico in diretta visto che anche Alessandro lo sa se vuoi ti presto Adriano che insomma è un Chomskyano un po' una riflessione tecnica su dove sta la linguistica oggi e cosa ha da insegnare le scienze cognitive secondo me potrebbe essere interessante potrebbe essere interessante c'è un punto lì è un punto tecnico sulla ricorsività eccetera lasciamo stare ma parliamo c'è un angolo tra il suo cui magari anche con un paio di altri italiani bravi che fanno cose cognitive c'è qualcosa a insegnare va bene va bene ce lo segniamo allora allora Ale Michele abbiamo tirato tardi stasera è stata una bellissima chiacchierata però veramente veramente grazie credo che siano venuti a fare degli spunti interessanti e spero che il pubblico riesca a utilizzarli metterli in uso non semplicemente ascoltarli fare di sì con la testa e poi tirare dritto un po' questo è il senso di Daily Cogito e di tutto quello che facciamo io ringrazio tutti quelli che erano in live vi ricordo brevemente scusatemi mi prendo due secondi in velocità vi ricordo che domani io non ci sono perché sarò a Milano per lo spettacolo serale finalmente si torna a teatro ci sono ancora due tre posti quindi eventualmente sui social trovate il link e ci rivediamo venerdì con il rassegno di stampa però domani in diretta ci sarà comunque Fede con voi per parlare di cinema Fede di cosa che parlerai? Sorpresa parlerai di sorpresa bene perfetto quindi il cinema e la sorpresa alle 15 in diretta qui su Twitch e dopo di che insomma tutte le altre cose che ci aspettano durante la settimana io ringrazio di nuovo Alessandro grazie Michele è stata una bellissima chiacchierata voi tutti grazie a tutti seguite quello che fanno sui loro canali trovate tutto in descrizione e fate i bravi e come sempre non dimenticate che ormai ormai vien da ridere quando sei dopo 4 anni 3 anni e mezzo mi rifiuto Alessandro fa tu sei più gentile beh insomma è ora va a cagare Mike ecco vabbè è la chiusa fa cagare no però pisarsi perché io ho bevuto tanto te come la chiusa la chiediamo qua la chiediamo qua ciao 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 belli ciao a tutti 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 ciao a tutti